Agnano si trova appena in alto percorrendo una bellissima strada con un livete ai lati. Poco prima del paese, lungo la strada, troviamo la bella villa di Agnano, fatto costruire da Lorenzo de' Medici, oggi proprietà privata. Il centro abitato più antico si trova lungo la strada che è sotto alla chiesa del paese. Vicino alla bella chiesa si trova un'interessante fonte restaurata. La parte sotto del paese è una nuova zona residenziale.